Un arco colossale che con i suoi 108 metri di altezza potrebbe contenere l'attore Eiffel o la Statua della Libertà. Si chiama New Safe Confinement e dovrà ricoprire per i prossimi 100 anni il reattore di Chernobyl e il vecchio sarcofago. Un gioiello tecnologico costruito a distanza e assemblato a 300 metri dall'unità numero 4, esplosa nella notte tra il 25 e il 26 aprile del 1986. A 30 anni dal disastro nucleare che sconvolse il mondo, il progetto che ha messo insieme oltre 40 paesi è vicino al completamento. 30 anni fa, in uno scenario completamente diverso, per amor di padre e spirito di sacrificio, i liquidatori rischiarono la vita per chiudere il reattore in un sarcofago. Furono gli eroi di Chernobyl, gli uomini che salvarono il mondo. Migliaia di militari, riservisti, operai e tecnici, chiamati a liquidare le conseguenze dell'incidente di Chernobyl. Lavarono strade, case, automobili e trattori. Scorticarono e sotterrarono la terra contaminata. Interrarono interi villaggi. Con un camice di piombo, una mascherina di garza e senza alcuna protezione ai piedi, salirono sul tetto del reattore. Tutto il materiale radioattivo dovuto alla fusione del nocciolo doveva essere in qualche modo confinato per non essere disperso nell'ambiente. È stato costruito in condizioni assolutamente estreme da quelli che sono stati chiamati liquidatori, che hanno tamponato una situazione che poteva essere ancora più pericolosa di quello che è stato. Si lavorava in batteria. Qualcuno caricava la barella, gli altri la scaricavano giù nel cratere del reattore tra le altre macerie. Non dovevamo guardare in giù, era proibito, ma ogni tanto guardavamo lo stesso. I liquidatori passarono la storia anche come i bio-robot, perché se i mezzi telecomandati andavano subito in avaria per le eccessive dosi di radioattività, quegli uomini, armati solo del loro coraggio, resistevano. Sono stati i primi a vedere ciò che noi possiamo soltanto supporre. Avevano l'ordine di non parlare con la popolazione per non creare panico. Erano volontari, arruolati in una guerra contro un nemico invisibile e indecifrabile. Molti di loro morirono poche settimane dopo il rientro a casa. Altri si ammalarono negli anni successivi. Nessuno si lamentava. Se si deve andare, si va. La patria ha chiamato. La patria ha ordinato. Il nostro popolo è fatto così. In sei mesi venne costruita la copertura dell'unità numero 4. Un manto di cemento che doveva essere provvisorio, ma che a 30 anni dall'incidente è ancora lì. Deteriorato dal calore del reattore e infiltrato dall'acqua. I rischi sono la fuoriuscita del materiale che ancora rimane nel reattore. Ricordo che la fusione del nocciolo non è una cosa molto semplice da gestire, perché le temperature in gioco sono molto alte e quindi c'è la possibilità di emettere vapori o polveri e mandarli nell'ambiente. Crepe di una certa dimensione potrebbero far fuoriuscire questo materiale con quello che ne consegue. Attenzione, attenzione! A causa di un incidente verificatosi alla centrale nucleare, il livello di radioattività è fuori dalla norma. Per la vostra incolumità e soprattutto per quella dei vostri figli si rende necessario evacuare temporaneamente tutti i residenti nella zona di città. Alle 2 del 27 aprile di 30 anni fa, a più di 24 ore dall'esplosione del reattore, inizia l'evacuazione delle città dove abitano le famiglie dei lavoratori della centrale. Gli abitanti portano con sé poche cose, si aspettano di tornare dopo pochi giorni. Nessuno immagina di non tornare mai più. L'ordinanza diceva per tre giorni e anche ai bambini si era detta una bugia. Andiamo al circo, ma piangevano lo stesso. E la gente pensava che non sarebbe stato comunque per molto tempo. Le dirò che sembrava di essere in guerra. Le voglio raccontare un piccolo segreto. Un giorno sono entrato nel mio appartamento di nascosto. Ho trovato tutto in ordine, esattamente come l'avevamo lasciato tanti mesi fa. Ma per ora non ci possiamo più vivere. Oggi Cernobil e Pripyat, a pochi chilometri dalla centrale, sono città fantasma, assediate dalla vegetazione, dove il tempo si è fermato. C'è anche chi sceglie di vivere nelle zone contaminate per evitare il contatto con l'uomo. Intere famiglie è in fuga da conflitti e violenze. E nella cosiddetta zona di esclusione, un diametro di 30 metri. Un arco colossale, che con i suoi 108 metri di altezza potrebbe contenere la tour Eiffel o la statua della libertà. Si chiama New Safe Confinement e dovrà ricoprire per i prossimi cento anni il reattore di Cernobil e il vecchio sarcofago. Un gioiello tecnologico, costruito a distanza e assemblato a 300 metri dall'unità numero 4, esplosa nella notte tra il 25 e il 26 aprile del 1986. A 30 anni dal disastro nucleare che sconvolse il mondo, il progetto che ha messo insieme oltre 40 paesi è vicino al completamento. 30 anni fa, in uno scenario completamente diverso, per amor di padre e spirito di sacrificio, i liquidatori rischiarono la vita per chiudere il reattore in un sarcofago. Furono gli eroi di Cernobil, gli uomini che salvarono il mondo. Migliaia di militari, riservisti, operai e tecnici, chiamati a liquidare le conseguenze dell'incidente di Cernobil. Lavarono strade, case, automobili e trattori, scorticarono e sotterrarono la terra contaminata, interrarono interi villaggi, con un camice di piombo, una mascherina di garza e senza alcuna protezione ai piedi, salirono sul tetto del reattore. Tutto il materiale radioattivo dovuto alla fusione del nocciolo doveva essere in qualche modo confinato per non essere disperso nell'ambiente. È stato costruito in condizioni assolutamente estreme da quelli che sono stati chiamati liquidatori, che hanno tamponato una situazione che poteva essere ancora più pericolosa di quello che è stato. Si lavorava in batteria, qualcuno caricava la barella, gli altri la scaricavano giù nel cratere del reattore tra le altre macerie. Non dovevamo guardare in giù, era proibito, ma ogni tanto guardavamo lo stesso. I liquidatori passarono la storia anche come biorobot, perché se i mezzi telecomandati andavano subito in avaria per le eccessive dosi di radioattività, loro coraggio, resistevano. Sono stati i primi a vedere ciò che noi possiamo soltanto supporre. Avevano l'ordine di non parlare con la popolazione per non creare... ...erano volontari, arruolati in una guerra contro un nemico invisibile e indecifrabile. Molti di loro morirono poche settimane dopo il rientro a casa, altri si ammalarono negli anni successivi. Nessuno si lamentava, se si deve andare, si va. La patria ha chiamato, la patria ha ordinato, il nostro popolo... In sei mesi venne costruita la copertura dell'unità numero 4, un manto di cemento che doveva essere provvisorio, ma che a 30 anni dall'incidente è ancora lì, deteriorato dal calore del reattore e infiltrato dall'acqua. I rischi sono la fuoriuscita del materiale che ancora rimane nel reattore. Ricordo che la fusione del nocciolo non è una cosa molto semplice da gestire, perché le temperature in gioco sono molto alte e quindi c'è la possibilità di emettere vapori o polveri e mandarle nell'ambiente. Crepe di una certa dimensione potrebbero far uscire questo materiale con quello che ne consegue. Attenzione, attenzione! A causa di un incidente verificatosi alla centrale nucleare, il livello di radioattività è fuori dalla norma. Per la vostra incolumità e soprattutto per quella dei vostri figli si rende necessario evacuare temporaneamente tutti i residenti nella zona di Chiep. Alle 2 del 27 aprile di 30 anni fa, a più di 24 ore dall'esplosione del reattore, inizia l'evacuazione delle città dove abitano le famiglie dei lavoratori della centrale. Gli abitanti portano con sé poche cose, si aspettano di tornare dopo pochi giorni, nessuno immagina di non tornare mai più. L'ordinanza diceva per tre giorni e anche ai bambini si era detta una bugia, andiamo al circo, ma piangevano allo stesso. e la gente pensava che non sarebbe stato comunque per molto tempo. Le dirò che sembrava di essere in guerra. Le voglio raccontare un piccolo segreto. Un giorno sono entrato nel mio appartamento di nascosto. Ho trovato tutto in ordine, esattamente come l'avevamo lasciato tanti mesi fa, ma per ora non ci possiamo più vivere. Oggi Cernobil e Pripyat, a pochi chilometri dalla centrale, sono città fantasma, assediate dalla vegetazione, dove il tempo si è fermato. C'è anche chi sceglie di vivere nelle zone contaminate per evitare il contatto con l'uomo. Intere famiglie è in fuga da conflitti e violenze. E nella cosiddetta zona di esclusione, un diametro di 30 chilometri tra Ucraina e Bielorussia, dove l'uomo non può vivere, proliferano lupi, alci, cervi, cinghiali e altri grossi mammiferi. A 30 anni dal disastro non c'è ancora chiarezza sul numero dei morti, né sulle possibili conseguenze delle radiazioni. Le vittime accertate dal rapporto ONU sono 65, 4 mila i morti negli anni. Cifre contestate da altre ricerche, da associazioni come Greenpeace, che parla di 6 milioni di morti a livello mondiale, perché gli effetti nel tempo di quello che è accaduto sono ancora tutti da scrivere. Oggi 5 milioni di persone vivono ancora in quei terreni contaminati, consumano ortaggi e bevono acqua che scorre in quelle terre. La minaccia nascosta, se non affrontata, ci sarà per decine di migliaia di anni, perché comunque il materiale radioattivo che si trova all'interno del nocciolo ha un tempo di recadimento molto lungo. Quindi bisognerebbe comunque affrontare la questione e cercare di smantellare il reattore e mettere in sicurezza i rifiuti radioattivi. Il primo importante passo verso la dismissione del vecchio reattore è il nuovo sarcofago in costruzione. Una cupola d'acciaio lunga 162 metri, come due campi da calcio, e larga 257, tre volte il peso della Tour Eiffel. Un progetto del consorzio francese Novarka, formato dalla Bansy Construction Grand Projet e dalla Bouygues Travue Publique, ad amministrare il fondo che lo finanzia, è la BERS, la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Il fondo previsto è di un miliardo e mezzo di euro. Carlo Mancini è il presidente del Comitato Internazionale di Esperti che assiste i donatori e media tra la BERS e Novarka. A questo fondo hanno contribuito 26 paesi, fra i quali l'Italia, e poi ci sono contributi minori di paesi cosiddetti donatori, per cui il complesso dei paesi che hanno contribuito a questo fondo, ammonta a 46. Tra le società subalpaltatrici di Novarka, che hanno dato un apporto fondamentale all'opera, ci sono due aziende italiane, l'Ansaldo Nucleare e la Cimolai. Sono 25 mila tonnellate di acciaio ad alta resistenza, che sono state costruite a Pordenone, trasportate sul sito di Cernobil e montate. A differenza del primo sarcofago, il Grande Arco non è stato costruito sopra la prima tomba del reattore, ma a circa 300 metri di distanza, per limitare al massimo la vicinanza al punto dove le redazioni sono più elevate. Le operai lavorano in un'area bonificata, dove è possibile non indossare la maschera, e 60 radioprotezionisti si occupano soltanto di monitorare e garantire la sicurezza. Questa nuova calotta protettiva è stata ideata per esistere a temperature che vanno da meno 43 a più 45 gradi, a scosse sismiche e a fenomeni atmosferici eccezionali, come un tornado di classe 3 che si verifica ogni milioni di anni. Alla fine di quest'anno verrà fatta scivolare sulla vecchia copertura e a fine 2017 i lavori saranno ultimati. Ma qual è il maggior punto di forza? Il principale punto di forza è sicuramente il fatto che, oltre ad essere un sarcofago, anche se estremamente tecnologico, migliore rispetto a quello di prima, è dotato di sistemi di controllo dell'aria all'interno e di filtrazione dell'aria in uscita dal sarcofago, che permettono di avere un monitoraggio continuo della situazione che c'è intorno al reattore. Il nuovo arco getterà le basi per la dismissione del reattore incidentato. La prima cosa da fare sarà occuparsi proprio del vecchio sarcofago. La prima operazione che si dovrà fare una volta realizzato l'arco, che dovrà essere terminata entro 4-5 anni, quindi entro il 2023, è lo smontaggio delle parti instabili dell'attuale sarcofago. Questo materiale verrà portato in un impianto esterno alla centrale di Chernobyl, sempre dentro l'area di esclusione, come si dice. E in questo impianto verrà impacchettato, eccetera, e poi accantonato. Per altri cento anni lo spettro di Chernobyl sarà messo a tacere e non sappiamo con certezza per quanto tempo gli effetti del disastro continueranno a farsi sentire. Terre e case deserte, campi che tornano a essere foreste, animali che vivono là, dove viveva l'uomo, centinaia di chilometri di cavi elettrici morti e di strade che non portano da nessuna parte. Pensavo di aver scritto del passato, invece era il futuro.